Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriamo altri due pacchetti delle patatine San Carlo Junior della collezione Minions, le penne telescopiche. Allora, ci manca una sola penna, ci manca questo Minions qui e vediamo se riusciamo a trovarlo. Dai, spegniamo bene. Apriamo il primo pacchetto. E allora, vediamo un po' il primo pacchetto, il primo pacchetto, vediamo un po'. Ragazzi, collezione completa, ce l'abbiamo fatta, eccolo qui, lo abbiamo trovato. Lo cercavamo e lo abbiamo trovato. Il primo pacchetto aperto di questo video, tac, è saltato subito fuori, eccolo qui. Ecco la penna telescopica che ci mancava per concludere questa collezione. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, abbiamo concluso questa collezione San Carlo Junior delle penne telescopiche dei Minions. Allora, apriamo anche questo pacchetto, tanto le patatine ce le dobbiamo mangiare, quindi tanto vale aprirlo. E scopriamo quale ovviamente doppione a questo punto abbiamo trovato. E beh, comunque vada ragazzi, a prescindere dal pacchetto che aprivo per prima, facevamo collezione completa oggi, vedete? L'abbiamo trovato anche in quest'altro pacchetto. Quindi, come se non bastasse, ne abbiamo due, quindi uno lo mettiamo in collezione e l'altra penna va tra gli scambi, se serve a qualche amico o amica collezionista. Aiutiamo anche loro a completare la collezione come si fa tra collezionisti. Dunque ragazzi, collezione completa. E a questo punto vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti altri video. In descrizione trovate anche i link delle pagine Facebook ed Instagram, se volete seguitemi anche lì. Il link del blog, se volete fateci un salto e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!